Nell'80 a.C. agli esordi della sua carriera di avvocato, Cicerone pronunciò un'orazione in difesa di Sesto Roscio di Ameria, accusato di parlicidio. Tale difesa fu un difficile banco di prova per il giovane avvocato che dovette accusare personaggi molto potenti. L'imputato, Sesto Roscio, era infatti figlio di un ricco esponente dell'aristocrazia romana, Sesto Roscio padre, il quale era legato da rapporti d'amicizia alle famiglie più in vista dell'aristocrazia romana. Tra queste le famiglie dei metelli, dei servili e degli scipioni che simpatizzavano per la fazione sillana. Dal momento che queste famiglie volevano evitare di esporsi apertamente contro alcuni dei soprusi del governo sillano, la causa fu assunta da Cicerone, il quale, ancora privo di peso politico, non esitò a scagliarsi contro Lucio Cornelio Crisogono, potente liberto di Silla, complice dei mandanti dell'omicidio. Cicerone riuscì a scagionare Roscio dall'accusa di parricidio, non soltanto per la sua indubbia abilità nel condurre il dibattimento, ma forse anche perché Silla non intervenne in alcun modo a favore del suo liberto, complice dell'omicidio.